Ebbene siamo partiti di... Non ci credo Ciao ragazzi e benvenuti qui, sono io, sono Alex e sono tornati nel canale Oggi siamo qui per te, sono emozionatissimo Per registrare questo video di Rufa insieme a mio fratello Jeff Per chi non lo sapeva, mio fratello Per chi non lo sapeva, Jeff è mio fratello Vabbè, non si può tornare indietro, non si può tornare indietro Vagia cazzuari Non si può tornare indietro, non si può tornare indietro Vedi, non ti trova indietro 10, 6 Tiro di partita, facciamo la classica No, niente Se io li si ammere faccio a galletta, ammazzo, non li fa Non li fa scivolare Se sei fa Metto Ora metto sopravvivenza No, sopravvivenza è che quando fai gol, ti cogli un gioco del passo Poi collo e stai 1 a 0 Però sei 10 a 1 10 contro 10 Dove sono arrivato a partita da classica La classica Raga, facciamo due partite Una contro Una contro e una uova Eh vabbè, dai per non fare No, vedevo che non la vedevi No dai, siamo a me, o a me esce Nessuna, 5 stelle No, c'era 6 di 4 stelle e mezzo No, me la soccata di brutto la Roma La rischia a fare selezioni casuale Non mi piace la Roma Quanto sono scemo, dai per favore possiamo tornare indietro Non si può fare una volta, non si può fare una volta Non si può fare una volta, non si può fare una volta Ma non mi piace Non mi piace la Roma Non si può fare una volta video regole spallo di banzi cartellini si infortuni si sai quanti rossi prenderò io sia perchè io faccio colere sia quanti rossi prenderò perchè se prendo 5 rossi ne prenderò 7 8 o 9 no shone shone è quello dell'ajax che io faccio la carriera allenatore non te puoi dire non te puoi dire ma dai facciamo il serio c'è le partite entran 8 minuti non facciamo due partite guardate quanto sopportano come si fanno no ragazzi eh si vede christian al vivo ti stavi per fare automatico il tuo giocatore e tu rinvia che non c'è nessuno aspetta che si mettono in posizione invece di rinviare a me non sa nulla di calcio no dai ma muovi ma tu fai schifo come la muovi è di veloce e vanno a fare un passato come vai a aprire palla cerca di fare il serio stiamo facendo un video eriksen 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 ma io stavo per entrare nella porta ci abbiamo fatto gestione squadra spulsen 80 eriksen 88 eriksen 88 eriksen 88 eriksen 83 eriksen 88 eriksen si dice cosa ho nel cervello eriksen 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 sua tex non cambiamo suddiri sbrigati che poi tutti mi pesare sbrigati sta durando troppo il video che fai che fai nulla esci senza salvare lasciato un modulo che bello no questo è schiato e vabbè tienitelo questo è buono questo è buono eh pure quello a destra andava bene questo è muori veloce però eric sono bello veloce e guarda tirare la pautiere che voglio fare la pautiere chiamai perchè devo farti repletta se ci riesco tre secondi a un secondo veloce veloce a cliccare veloce però gioca bene sarà il video alla fine non lo mando gioca bene e non fare lo scena dai dai no 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 non vado a uscire c'è dunque una rimessa con le mani però dai maria amicizia l'hai rinviato mi hai regalato la perchè tu fai lo scemo amicizia perchè non posso fare i tagli delle tue cagliate speriamo che nel video la mia voce verrà bene perchè negli altri video non ci credo no come me lo sono cagliato sto cosa io sono rinviato ci volate proprio stavi per farlo al tuo quartiere ti prego ti prego ti prego ti nooo non ci credo mai ma c'ho già 8 minuti video no non ce la faccio finito vai dolberg si è penetrato cacchio dolberg fai cagare si è penetrato dolberg mi aspetta dolberg non ci credo non ci credo non ci credo chi ha attivato il replay allora sono stato io per bario ok saltiamo casperdozer lui non è casper lui è mamma mia cacone scione scione che schifo smettila non la mando smettila fai il serio nei video stanno non ci metto più allora guardate nei commenti noi felice se lo volete e triste se non lo volete e ovviamente lasciate mi piace sono i video di tipo di faccia doppiettaria appena intanto è penetrato sono troppo genio sono troppo forte sono troppo bulloso so chi la trovo le cimane di me prima di te fai vedere chi mi ha eliminato non mi sta né борove ma sono stato un cartone la classica se non ci metto o non mi fai farlo cercati fare serio dai 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 dammi fai dai 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 iness dai 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 Puesi dai ri cosa dalla ritorno no sto scherzando, perché non la ricordo? ma no! c'è da le flesho 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 aia! mi ha dato una spinta la metti in mezza? nooo mancata vabbè rimessa la rimetta dal fondo non c'è che sentire la telecamera mi da la mano nel bico chi se ne frega la mano scendaccio ho visto che ho la pelle chiara però la faccia non l'ho mai fatta vedere tra 5 anni forse si calcio d'angolo calcio d'angolo vai danni fai troppi danni come ti sei salvatore hai fatto il triplet hai fatto il triplet ragazzi non so il primo tempo c'è 11 minuti e mezzo di video questa parca miseria e dai poi c'è la cellulata dai 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 devi morire albero di merda che almeno ti si vede la faccia se fai così dai per un po' di tasti fai il 6 forse in serio vedi che comunque è il tripleto che mi interesse quindi che non è non è per un po' di stato ma poi se ti fa sciogli questa mossa bella guarda se è speciale no 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 che finta mi è fatto devi guardare dai pietra e lì vai schimbella e finito no 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 12 minuti e 30 secondi di un idioma si riparte Ma i miei sono tutti stanti Si Anche i miei? Si E ti hai gioia di più E che? No! Come ho fatto a perdere palla? Eh, io la hai curato Eh? Eh? Ahio Non ci riesce mai Tiè poi tiè Solti Vai Schimmel Non ci vedo come ti ho saltato Cambia il giocatore Ma adesso Perché posso fare così? Non fa così Ma si vede nel video bene la partita? No Si 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 Calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore Lei è ancora in vita, però devo cambiare il tiratore, Dolberg, Dolberg, che deve fare tripletta Dolberg D'alto al miratore, d'alto al miratore Ma perché Erics? Ma ho sbagliato il giocatore per tirare Ho tirato con Erics invece che Dolberg Come inizio ragazzi? Vabbè, ragazzi, io gioco a FIFA da sei anni Da tanti anni, madre di là Gioco a FIFA, FIFA 2002, da pinzerotto Cioè, io c'ho ancora best, io c'ho ancora best 2009, ragazzi Però, non ci gioco più, perché sono vecchi, non vuoi portare il canale, non vuoi, ma io, sono più belli Ma io, sono più belli, quando ho la giornata Ma io, gioco a FIFA, ma mi fanno, cavolo, non è meglio Dai, no, no Ma che fai, i, i, i Ma tu stai dicendo, i, i, internazional Guarda, 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 rifaccio, eh Ma che cavolo stai facendo Ma che ti tiri dal fuoco, allora Allora, o il smetti, o il diciamo, no, senza il tirini Vedi, no Ti riuscirei mai, sei capato Che c'è di avere tu la porta Ho il fallo io Ah, io adesso ho qua a girare Vedi che forse l'abitro mi dà il fatto il mio figlio È il suo primo gol, la sua vita che mi fa Calion Calion, 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 ma che schifo Ma che schifo, noi siamo i juventini No, ma il palmonio sta per salire del mio coltiere Guarda, 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 guarda Ma non ha fatto un L, è passato in mezzo È mia Ma cosa, che aveva tutta la porta vuota da solo, eh Ma che schifo, schifo E tu smettila con questi versi Dai, beh Ma che schifo, schifo, schifo E se ti ti hanno una mese Dai, ma che schifo In verità sono gli 7 minuti che registriamo Secondo me, ma troppo C'è il giocatore che la recupera su Eh, vabbè, io te l'ho passata Ma tu, la smetti Non ti faccio colpa Imparare Non devi tirarla Bravo, ce la stavi per fare Non c'è ne d'oro Non c'è ne d'oro Non c'è ne d'oro Non c'è ne d'oro Smettila di fare versi da idiota Sono pure a te che mi ha detto A me scegliarti C'è ragazzi, benvenuti Ti faccio, non ti faccio Non ti dovrebbe far ridere Non ti dovrebbe far ridere È un insulto Non è vero, non mi faccio ridere Non so che far ridere Non mi faccio ridere Ho capito, che è un insulto cattivo E poi sembri un bambino Non mi vede neanche Ma se tu lo dici, si capisce Comunque io l'ho già I miei video Le... Devo fare versi Ma dove c'è il fatto Le faccio mette Ho capito Ma registro video Eh ragazzi No, allora nei commenti Voglio che ti vede tutti Un scelto e schifo Se l'ho qua Ma 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 non sto modificando la voce Ma la mia così Non ho fatto neanche un cambio Ma non Mi ha fatto Mi ha fatto Su 3 a 1 Oh ho vinto io Ragazzi a 1 Eeeh Io non te la faccio più Sto sudando Sì Tanto io voglio il video Cancello e lo registro Allora ragazzi Scrivete sotto i commenti Già per essere Magnica Veramente I commenti Lasciate la fama di un blog Se il video vi è piaciuto Se volete altri video Su FIFA Che non si è arrivato Ma si usano Io ho un po' di Sotto questo Io ho un po' di rossa Stanno vedendo Non so Le canna non mette a fuoco Quello Questa Ovviamente Ma registrerò Il video dove ci vanno insieme Sperando che quello Non volete Comunque tutte le cose Che dico nei video Ragazzi A te Crimo E te Io Io scherzo Lo dico per scherzare Però devi smettere Allora Cavolo ragazzi Ovviamente Vi invito a vedere il video Che so che fare Se andate a mettere sotto Quando vedete Questo video Ovviamente Devo fare Intro finale Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ah e comunque Qua non c'è scritto Non c'è scritto Comunque Io ho già detto Alla mia Comunque Ciao ragazzi 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 Ciao ragazzi